Nel G20 di questo fine settimana a Roma i leader mondiali torneranno a parlare di Afghanistan. Per capire meglio cosa sta accadendo in questo momento nel paese in vista del vertice ci siamo rivolte a Riccardo Alcaro, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma Attori Globali, all'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali. Ecco il quadro che ci ha disegnato. La situazione in Afghanistan sarà uno dei temi centrali del G20 che si terrà questo fine settimana a Roma. Per capire meglio cosa sta accadendo in questo momento nel paese e di cosa dovranno effettivamente discutere i leader mondiali durante il vertice ci siamo rivolte a Riccardo Alcaro, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma Attori Globali, all'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali. I talebani hanno tenuto una vittoria completa. In questo momento non esistono zone dell'Afghanistan in cui sono attivi i gruppi armati che fanno resistenza attiva al Nuovo Emirato. Però questo non vuol dire che il paese sia stabile dal punto di vista della sicurezza ci ha spiegato, sottolineando che sono appena passati pochi mesi dalla ripresa del potere dei talebani e che i gruppi che si opponevano ai talebani durante il loro primo governo, a metà degli anni 90, si potrebbero ancora riorganizzare. C'è un altro fronte di sicurezza, già aperto, che riguarda movimenti jihadisti più radicali ancora dei talebani. Come ad esempio l'Isis K, ha aggiunto. Si tratta di un gruppo che negli ultimi tempi ha condotto una serie di attacchi, il più funesto quello all'aeroporto di Kabul negli ultimi giorni prima della deadline per l'evacuazione dei cittadini dal paese. E ancora, sul fronte socio-economico l'Afghanistan è di fatto in una situazione di catastrofe umanitaria imminente. Il governo internazionalmente riconosciuto che è collassato ad agosto riceveva dagli aiuti esteri, in particolar modo americani, finanziamenti che coprivano il 75% della spesa. Per tre quarti il governo internazionalmente riconosciuto di Kabul era finanziato da aiuti esteri. Questi sono venuti del tutto meno. In più, negli ultimi vent'anni la presenza degli Stati Uniti e internazionale aveva integrato l'Afghanistan nell'economia globale. Questo vuol dire che la banca centrale afghana detiene titoli in dollari all'estero, che sono stati congelati da Washington nella prospettiva di creare una leva di influenza sul nuovo governo di Kabul. Un fattore che però lascia poco margine all'esecutivo per pagare gli stipendi pubblici o per finanziare le opere pubbliche. Grazie per la visione! Grazie per la visione!